Avete chiamato John Nox e Valerie Somers. Se volete lasciare il vostro nome, l'ora della chiamata e un numero al quale farvi contattare, uno di noi vi chiamerà appena possibile. Stasera ti ho quasi tradita. Con un altro uomo. Ma sai cosa vuoi che ti dica? Di qualcosa! Avete scopato? No! Vedi, sono sposata. Lo so, anche io. Era la o no? Beh, mi ha amata come faceva mio marito una volta. Sai, anche mio marito mi amava allo stesso modo una volta. Sì, era... Passionale. Sì, era... Come? Completo. Wow! Lei ama sua moglie? Sì, l'avevo. Allora lascia che glielo dica. La perdoni. E' tranquillo qui fuori, John. Questa strada non è ben illuminata. Penso dovrei restare qui. Dovrei starci finché tu non torni a casa. Io non ne vado di casa per cercare di sistemare le cose. Ed è di nuovo colpa... Non c'entro a quello, ho fatto qualcosa, ho bisogno del tuo aiuto. Io sono un estraneo, ho girato in una strada che lei non conosceva. Quindi io capisco che la donna abbia paura. Così le dico, ascolta, non avere paura. Questa è la scorciatoia. Credimi. Mi chiamo Leon Zatt. Sono del dipartimento di polizia. Sì? L'auto di sua moglie è stata localizzata, signor Mox. E' stata trovata lungo la strada secondaria. Chiusa. Aveva la faccia ricoperta di graffi. Aveva graffi dappertutto. E la maglietta era squaccia di salto. Esca stasera, domani sera, qualche sera. Trovi qualcuno, ci vada a letto. Senta il conforto del suo corpo. Si diverta. Perché sono attratto da te. Sai, forse... Non è più complicato di così. No, è complicato. Credimi, è complicato. Hai ragione. Sai, il problema tra noi è che parliamo troppo. Presumo sia perché siamo bravi a farlo. Davvero. Davvero. Ma io non voglio parlare. Per una volta non voglio parlare. Voglio solo abbracciarti. Sentirti. Toccarti. Sdraiarmi con te. Voglio solo sentire l'abbraccio di un altro volo. Cosa c'è che non va? Niente. Ho detto qualcosa di sbagliato. No. Ti ho spaventato? Solo baciati. Solo baciati. Baciati. John, credo di vedere delle luci in lontanato. Sono un abbagliante, John. È un altro. È tutto bene. La fermerò e chiederò un passaggio. Verrò a casa e ne parleremo. Devo andare ora, John. Sto arrivando. Ti amo. Ciao. 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 Grazie per la visione!